la legge la dobbiamo fare subito e poi dobbiamo fare i concorsi ci vorranno dei mesi, ci mancherebbe basta che non si arriva al 2020 come qualcuno sta paventando adesso non facciamo delle date, è il mio interesse fare il prima possibile e tutelate chissà da 15 anni a bordo se quello più prudente sulle date sono io, vuol dire che sono una persona seria perché se no potrei illudere tutti e portarmeli tutti a presso invece non faccio così 2020 è troppo, registro questa data e te abbiamo pure invitato e no, allora che abbiamo apportato tu mi dici dove vi parlo io ti pongo a Bari ma domani non è possibile io ti pongo no Santino, lo stalkerizzo io per la data non ti preoccupare tu mi mandi un messaggio mi guardo la gente ce neanche, capite, c'è chi e non si fa servalente